Sequestrata la salma di Aniello Bruno, detenuto del carcere di Forni, morto nella nottata tra sabato e domenica durante un intervento chirurgico. L'uomo, in carcere per associazione a delinquere, finalizzata alle estorsioni, soffriva da tempo. Per una settimana ha lamentato forti dolori addominali. Era stato anche ricoverato qualche giorno per alcuni accertamenti presso la sezione detentiva dell'azienda ospedaliera, ma era stato dimesso. E' stato portato in ospedale soltanto sabato sera, ma è deceduto durante l'intervento. Il cinquantenne agrese aveva una perforazione all'intestino. L'autopsia aiuterà a capire a quanto risale e soprattutto se un intervento più rapido avrebbe potuto salvargli la vita.